Ciao a tutti, mi trovo vicino a Fukushima in un bellissimo Ryokan. Sono qui appunto nella zona del Tohoku, la regione tristemente famosa perché è colpita dallo tsunami e indirettamente anche ovviamente dal terremoto del 2011. Vi voglio far vedere qui la stanza di questo Ryokan, davvero stupenda. E vi faccio vedere poi anche fuori, una grandissima stanza come potete vedere. Ora vi faccio vedere un po' qua e un po' là. Qui c'è l'ingresso, adesso non vi faccio vedere che c'è lì un po' di casino. E come un Ryokan che si rispetti ha ovviamente la zona onsen. Tanto avete visto che bei calzini che ho. Guardate che bello. Poi chiaramente non ho riuscito a farvi vedere all'interno, c'è anche una piscina tipo. Non so dirvi il nome esattamente di questo Ryokan in questo momento, però poi lo troverete nella descrizione del video e sul mio sito. Qua c'è un spiegato un po' di tutto. Ci sono delle varie conference hall. Questo è un negozio di souvenir che c'è giù vicino alla reception. Qui dovrebbe essere il nome del Ryokan, però non so dirvi esattamente in questo momento. come vi dicevo. Vi faccio vedere un attimo fuori. Qui c'è la zona per sedersi e stanno un po' più rilassati. E guardate fuori che spettacolo. Credo si riesca anche ad aprire un po' di più per farvi vedere proprio meglio. Vediamo. No, mi sa di no, in questo momento no. E qua sotto passa un fiume. Vediamo anzi se ci riesco. Magari no. Questo è bello della diretta. No, 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 no. Sì, andiamo. Ok, ci stiamo riscendo. Sentite il rumore del fiume. Guardate che bello è fuori. Guardate, come vedete è stato un crollo che è stato proprio dovuto al terremoto che c'era stato il tsunami. Non ha lo tsunami, chiaramente, però il terremoto lì vicino alla roccia. Il sole è bellissimo. Adesso vediamo di riuscire a chiudere, beh, chiudo dopo. Ok, per questo video è tutto. Ryokan, nella zona di Fukushima, Tohoku. Venite a visitare il mio sito www.martutani.it. Al prossimo video dal Giappone. Ciao, ciao.